Sottisfatti già al primo giorno di questa iniziativa Weekend a caccia di rifiuti, possiamo ritenerci veramente soddisfatti a questa grande caccia di rifiuti e dalle immagini avete visto quanti rifiuti che abbiamo raccolto, da solo quello che abbiamo potuto pesare noi siamo oltre le tre tonnellate di multimateriale, quindi di vetro, alluminio, acciaio e plastica, poi oggi siamo riusciti grazie all'amministrazione comunale, alla ditta Ecologie e Servizi di Condito Cecilia a svuotare queste campagne di vetro che ci sono a Guardavalle, precisamente a Guardavalle oggi abbiamo svuotato sei campagne, quindi questo peso delle campagne purtroppo non l'abbiamo potuto pesare, quindi il peso certo ce l'abbiamo la prossima settimana, quindi una grande iniziativa dove hanno partecipato tutti, dai bambini ai grandi e oggi se a sabato già il contenere è quasi pieno, io sono convinto che domani che domenica lo riempieremo sicuramente. Quindi grazie a tutti, grazie alle persone, ai volontari che hanno collaborato, grazie all'amministrazione comunale, grazie al centro studi e ambiente ricerca marina di Guardavalle che ha organizzato questa iniziativa insieme a me e agli altri volontari, quindi possiamo ritenerci veramente contenti, quindi l'invito è quello di venire domani, di approfittare di questa iniziativa e di raccogliere più rifiuti possibili per poter fare questo regalo alla natura e al nostro paese che è Guardavalle e così lo manteniamo più pulito. C'è stata gente che ha raccolto almeno sei bustoni grandi sul lungomare, li ha raccolti, ha pulito il paese, quindi una grande iniziativa, grande soddisfazione. Quindi grazie a tutti, ci vediamo domani, grazie a Guardavalle e anche a Ollagli, grazie a tutti.